Capitolo 19 Ed ecco, finalmente, l'essere dai piedi quadrati era tornato alla sua casa. Nella sua casa alta e piatta, senza parete e senza tetto, e teneva in pugno la spada crudele. Sul suo livido cavallo bianco aveva galloppato sulle acque e tornato sopra la terra. Finito il tempo del morire, era tempo di seppellire i morti. — Jenny, siamo da due giorni in questo buco sudico e losco, ed è troppo. Dobbiamo andarcene da questa casa e da questa città, non ho mai potuto soffrirla. E dove si potrebbe andare, T-Cake? Si potrebbe tornare laggiù, a Etonville, se tu vuoi. Per me non ci tengo, ma se proprio desideri che ci andiamo. Niente affatto, lo dicevo soltanto per non più costringerti a questa vita vagabonda, se ne eri stufa. — Se ti do fastidio. Ma sentite un po' questa donna. Faccio di tutto per di stare con lei e lei sentitela, bisognerebbe picchiarla. Allora parla e faremo quello che vuoi. Provare non guasta. Ormai mi sono riposato abbastanza e le cimici diventano troppo insolenti. Prima, quando ero sfinito, non me ne accorgevo neanche. Andrò fuori a vedere quel che si può fare, qualunque cosa pur di avere del lavoro. — Faresti meglio a stare in casa a riposarti. — Non c'è nulla da fare fuori. — Ma io voglio andare a vedere, geni. Può darsi che possa servire a qualcosa. — Serviresti, sì, ma per un lavoro che non ti piace di certo. Tutti quelli su cui possono mettere le mani ti obbligano a seppellire i morti. Veramente dicono che prendono solo i disoccupati, ma figurati se stanno a vedere se sei disoccupato o no. — Statene in casa. C'è già la Croce Rossa che fa il possibile per gli ammalati e i feriti. — Ma io ho del denaro, geni. Chi può darmi noia? E poi voglio vedere come stanno le cose. Voglio vedere se mi riesce ad avere notizie dei ragazzi che sono scappati con noi dalle Glades. Può darsi che si siano salvati tutti, chissà. T.K. uscì e si mise a vagabondare attorno. Vide su ogni cosa l'impronta dell'orrore. Case senza tetto e tetti senza case. Acciaio e pietra schiacciati e sbriciolati come legno. La madre d'ogni male si era abbandonata alla sua collera contro gli uomini. Mentre T.K. che stava guardandosi attorno, vide due uomini venire verso di lui con un fiscile a spalle. Due bianchi. Pensò allora a quello che gli aveva detto geni e si preparò a fuggire. Ma subito comprese che sarebbe stato inutile. L'avevano già visto ed erano troppo vicini per non colpirlo, se gli avessero sparato. Chissà che non lo lasciassero passare senza dirgli nulla. E poi bastava mostrare loro il denaro perché capissero che non era un vagabondo. O è là, Jim! gridò a quello più alto. Proprio te cercavamo. Io non mi chiamo Jim, disse T.K. guardingo. Perché mi cercavate? Io non ho fatto nulla. Ecco perché ti vogliamo. Perché non hai fatto nulla. Vieni, andiamo a seppellire un po' di questi morti. È un affare che va già abbastanza per le lunghe. T.K. si tirò indietro in atteggiamento di difesa. Cosa c'entro io? Sono un operaio? Ho del denaro in tasca? L'uragano mi ha cacciato via dalle glades. L'uomo più basso fece un movimento brusco col fucile. Vieni sulla strada, avanti! E bada che non ti capiti di essere seppellito anche a te. Cammina davanti, in fretta! E T.K. che si trovò così a far parte di un piccolo esercito costretto a lavorare per sgombrare i rottami e seppellire i morti. Bisognava cercare i cadaveri, radunarli in certi punti e poi seppellirli. Non si trovavano cadaveri soltanto tra le macerie. Ce ne erano di sepolti sotto le case, impigliati nei cespugli, galleggianti sull'acqua, appesi agli alberi, alla deriva, sotto le rovine. Carri che si lasciavano dietro una scia di esalazioni continuavano ad arrivare dalle glades e da altri quartieri suburbani, ciascuno con suo carico di 25 cadaveri. Alcuni corpi erano vestiti completamente, altri nudi, altri già in decomposizione. Alcuni con volti calmi e placide mani, altri con volti pieni di battaglia, occhi spalancati dallo stupore. La morte le aveva colti mentre tendevano lo sguardo, cercando di vedere oltre le cose visibili. Uomini infelici e tetri, bianchi e neri, continuamente sorvegliati, erano costretti a cercare i cadaveri e a scavare le fosse. Una grande fosse era stata aperta nel cimitero dei bianchi e un'altra grande fosse nel cimitero dei neri. Una quantità di calce vive era gettata sui corpi e non appena arrivavano, anche perché troppi erano stati insepolti. Gli uomini cercavano di sbrigarsi a coprirli, ma le guardie li fermavano. Avevano ricevuto degli ordini che dovevano essere eseguiti. E i lavo, i altri? È questo il modo di cacciar giù tutti insieme nella fossa? Guardate i cadaveri uno a uno per vedere se sono bianchi o neri. Dobbiamo forse stare a palparli? Dio abbia misericordia di noi, esaminarli nelle condizioni in cui sono. Che importa è il colore? Abbiamo bisogno tutto di essere seppellite al più presto. Ordine della direzione. Hanno ordinato delle casse per tutti i bianchi. Non c'è che il legno da poco prezzo, ma è sempre meglio che niente. Non cacciate i bianchi nel fosso come gli altri. E i neri? Fanno delle casse anche per loro? Ma neanche per sogno, sono troppi. Un po' di calce sopra e buttateli giù. Storie. Cosa volete capire di questi corpi in questo stato? È impossibile capire se sono bianchi o neri. I sorveglianti tenero una lunga conferenza in proposito. Dopo un po' tornarono e dissero agli uomini Guardate i capelli, quando non potete capire del resto. E non fatevi prendere a cacciar giù dei bianchi e non sciuppate delle casse per i neri. Sono troppo preziosi in questo momento. Sta lì a preoccuparsi di come si presenteranno al giudizio di Dio, osservò T. Cake all'uomo che lavorava vicino a lui. Credono forse che Dio non sia al corrente della legge di emancipazione dei neri. T. Cake lavorava da diverse ore, quando il pensiero di Jane in pena per lui lo rese disperato. Aspettò che arrivasse un carro da scaricare, poi tagliò la corda e scappò. Gli ordinarono di fermarsi minacciandolo di sparargli, ma lui continuò a correre e riuscì a svignarsela. Trovò Jane triste e piangente, come aveva pensato. Si consolarono reciprocamente della pena della lontananza, poi T. Cake venne fuori a dire Jane, dobbiamo andarcene da questa casa e da questa città. Non voglio più che mi costringano a un lavoro simile. No, no, T. Cake, siamo qui finché tutto non sia finito. Se non ti vedono non possono darti noia. No, no, e se andassero in giro per le case a cercare? Andiamocene questa notte, subito. E dove vuoi andare, T. Cake? Torniamo laggiù, alle Glades, è il posto più vicino. Questa città è piena di torpido e di tirannia. Ma T. Cake, c'è stato l'uregano anche nelle Glades e anche là ci saranno dei morti da seppellire. Lo so, Jane, ma sarà meglio che qua. Prima di tutto, da giorni e giorni non fanno altro che portare qui i cadaveri e non ce ne potranno mica più esserne tanti. In secondo luogo ce ne saranno stati meno. E poi soprattutto, Jane, i bianchi di laggiù ci conoscono. È brutto avere a che fare con i bianchi quando si è neri forestieri. Ti sono tutti contro. Ma questo è vero. Per un bianco i neri che conosce sono brava gente di colore. Quelli che non conosce miserabili neri. Jane rise nel dir questo e T. Cake rise con lei. È vero, Jane. L'ho osservato anch'io più di una volta. Ogni bianco crede di conoscere tutti i buoni neri che esistono e non ha voglia di conoscerne altri. Per lui, tutti quelli che non conosce dovrebbero essere processati e condannati a trascorrere sei mesi dietro la latrina degli Stati Uniti a goderne il puzzo. Cosa c'entra la latrina degli Stati Uniti, T. Cake? Sai bene che lo zio Sam deve sempre avere in ogni genere di cose il più grande e il più straordinario. Perciò il bianco pensa che perché la pena non sia troppo lieve ci vuole almeno, almeno, la latrina quintessenziata dello zio Sam. Ecco perché voglio andare dove i bianchi mi conoscono. Qui mi sembra di essere un povero orfanello. Misero insieme le loro cose, uscirono furtivamente dalla casa e se ne andarono. Il mattino dopo erano di nuovo nella piantagione. Lavorarono duramente tutto il giorno, a metter su alla meglio una casa in cui vivere perché il giorno dopo T. Cake potesse andare attorno a cercare lavoro. Il mattino seguente uscì presto, più per curiosità che per voglia di lavorare. Rimase fuori tutto il giorno, alla sera tornò raggiante. Che credi che abbia ritrovato, geni? Scommetto che non indovini. Scommetto la testa che hai visto sob the bottom. Sicuro lui e Steve Beef e Dockery e Elias e Codemy e Botini. Ma un'altra ancora, indovina. E chi lo sa? Starrett? No, è stato trovato travolto nella piena. È toccato a Elias per lirlo laggiù a Palm Beach. Prova ancora. Dimmelo tu, T. Cake, non riesco a indovinare. Non sarà mica Motor Bot, per caso. Proprio lui sicuro, il vecchio Motor. Quel figlio d'un cane è rimasto lasraiato in quella casa, si è addormentato e il lago ha trasportato alla casa fin chissà dove. E Motor non si è accorto di nulla finché l'uragano non era quasi finito. Ma no, sicuro, mia cara. Noi stupidoni quasi ci lasciamo la pelle per scappar via e lui là tranquillo dorme e continua a galleggiare. È vero, ma tu sai che si dice che non tutti hanno fortuna allo stesso modo. Anche questo è vero. Ho trovato lavoro. Prima portar via le macerie, poi rifabbricheremo subito la diga. Bisogna sgombrare tutto il terreno, c'è un mucchio di lavoro. La gente che c'è non basta neanche. T. Cake lavora a Dilena per tre settimane. Comprò un altro fucile e un'altra pistola. Lui e Jenny giocavano a chi tirava meglio e Jenny non gli era certo inferiore. Riusciva a colpire alla testa un piccolo falco in vetta, un pino. T. Cake era un po' geloso, ma orgogliosa della sua allieva. Verso la metà della quarta settimana, T. Cake tornò a casa un pomeriggio più presso del solito, lagnandosi del mal di testa. Mal di testa e nausea che lo costrinsero a buttarsi sul letto. Si svegliò affamato. Jenny gli preparò il pranzo, ma quando fu arrivato dalla stanza da letto alla tavola, disse che non aveva voglia di niente. Se non mi sbaglio, hai detto che avevi fame, si lagna Jenny. Mi pareva ad aver fame, disse T. Cake piano piano e lasciò cadere la testa sulle mani. Ti ho fatto i fageli al forno. Lo so che sono buoni, ma ora non ho proprio voglia di niente. Grazie, Jenny. Ritornò a letto. A metà della notte svegliò Jenny nell'incubo della lotta con un nemico che l'aveva afferrato alla gola. Jenny accese il lume e cercò di calmarlo. Che cosa c'è, tesoro? Gli parlò a lungo, con voce dolce, come per calmare un bambino. Dimmelo che sento anch'io quel che hai. Lascia che sento anch'io il tuo male con te, piccino. Dove ti fa male dolcezza? Qualche cosa mi ha preso mentre dormivo, Jenny, rispose T. Cake così piangendo. E ha cercato di soffocarmi. Se non fossi stata tu, sarei morto. Per questo ti agitavi tanto. Ma ora va tutto bene, tesoro. Io sono qua. Si addormentò di nuovo, ma l'incubo non era scomparso. Al mattino si sentiva ancora male. Cercò di alzarsi, ma Jenny non vuole nemmeno sentirlo parlare di uscire. Voglio finire almeno la settimana, disse T. Cake. C'erano delle settimane prima che tu nascessi e ce ne saranno ancora dopo che tu sarai morto. Rimettiti a nanna T. Cake. Andrò a chiamare il dottore che venga a vederti. Ma non sono mica malato, Jenny. Guarda un po', posso anche camminare per la stanza. È meglio che tu non ti trascuri. C'è tanta di quella febbre maligna in giro dopo l'oregano. Allora dammi un serso d'acqua prima di andartene. Jenny attinso un bicchier d'acqua e glielo portò a letto. T. Cake lo prese e se ne riempì la bocca. Pepparve soffocare orribilmente. Sputto fuori quello che aveva in bocca e getta il bicchiere sul pavimento. Jenny ne fu atterrita. Perché fai così con l'acqua che ti ho dato da bere, T. Cake? Sei tu che me l'hai chiesta. C'è qualche cosa che non va in quest'acqua. Quasi mi soffocava. Te l'ho detto che stanotte qualcuno ha cercato di soffocarmi e mi ha chiuso alla gola. E tu hai detto che sognavo. Forse era una strega che ti si era accucciata addosso, amore. Quando esco vedrò si trovo un po' di semi di senapa. Ma sarà meglio che vada a chiamare il dottore. T. Cake non protestò più e Jenny andò fuori di corsa. Quel male le faceva più paura dell'uragano. Non appena ella fu scomparsa, T. Cake si alzò, vuotò il secchio dell'acqua e lo ripuli per bene. Poi si trascinò fino alla pompa e lo riempì di nuovo. Non accusava mica Jenny di averlo fatto apposta o chissà che fine. L'accusava soltanto di poca cura. I secchi dell'acqua vanno lavati bene come tutto il resto. Ne l'avrebbe detto fuori dai denti quando tornava. Le avrebbe insegnato a trascurare la pulizia. S'accorse di essere furente. Posò il secchio sulla tavola e sedette per riposarsi prima di bere. Poi se ne versò un bicchiere. Che bell'acqua fresca. E pensare che non aveva bevuto dalla sera prima. Ecco quel che ci voleva per ridargli l'appetito e la voglia di mangiare i fagioli. Con avidità frenetica buttò indietro la testa mentre accostava il bicchiere alle labbra. Ma ecco il solito demonio che lo soffocava, che cercava di ucciderlo. Soltanto a sputar via l'acqua ebbe un po' di sollievo. Poi si buttò di nuovo sul letto e rimase là rabbrividendo finché non arrivò Jane con il dottore. Era un dottore bianco, ma abitava da tanto tempo sul posto che quasi faceva parte dell'accampamento. Raccontava gli operai storielle fate di parole che sappiavano di muscoli di sudore. Entrò in fretta nella casa, col cappello un po' a sinistra sulla nuca. «Bondì, T. Cake, cosa diavolo ti succede?» «Vorrei davvero saperlo, dottor Simmons. Ho tanto male.» «Ma no, T. Cake, non ha certamente una malattia tanto grave che non si possa curare con un quarto di acquavite. Scommetto che da un po' che non bevi, eh?» Picchiò T. Cake sulla schiena con la palma aperta e T. Cake cercò di sorridere per intonarsi alle sue parole. Ma ci riuscì con difficoltà. Il dottore ha per la borsa e si mise al lavoro. «Hai l'aria malandata, T. Cake. Hai un po' di temperatura e il polso frequente. Cosa hai fatto in questi ultimi tempi?» «Nient'altro che lavorare e giocare un poco, dottore. Ma si direbbe che l'acqua mi abbia preso in odio.» «L'acqua? Che cosa dici? Non riesco più a tenerla in corpo, ecco.» «E poi...» «Genie si avvicinò al letto con aria preoccupata. Dottore, T. Cake non vi ha detto nulla. Ci siamo trovati nell'uragano e T. Cake si è sfinito a notare per un bel pezzo, portandomi e poi a camminare per tutte quelle miglia nella tempesta. E poi, prima ancora che potesse prendere fiato, ha dovuto venirmi a pescare nell'acqua e combattere con quel cagnaccio. E il cane per di più l'ha morsicato in faccia. Ne l'aspettavo che si sarebbe ammalato.» «L'ha morsicato un cane, avete detto?» «Ma quella è stata una sciocchezza, dottore. Dopo tre giorni ero bello e guarito, disse T. Cake con impazienza. Sarà passato un mese ormai. Quello che mi sento è un'altra cosa. Forse sarà che l'acqua è ancora cattiva. Ci sono stati troppi cadaveri attorno perché si possa berla un po'. Così, credo, almeno. Sicuro, T. Cake, ti manderò una medicina e dirò a Jenny come curarti. Ma comunque voglio che tu te ne stia in letto da solo finché non te lo dico io. Niente, Jenny, in letto con te per un po' di tempo, hai capito? Accompagnatemi fino alla macchina, Jenny. Voglio darvi delle pille che farete subito a prendere a T. Cake. Fuori frugò nella borsa a idea di Jenny una minuscola fialetta con poche palline. Dategliene una ogni ora per tenerlo calmo, Jenny, e non stategli vicino quando gli prende una delle sue crisi di soffocamento e di vomito. Come hai fatto a sapere questo, dottore? Sono venuta fuori apposta per dirvelo. Jenny, purtroppo sono sicuro che è stato un cane idrofobo a mordere vostro marito. Ormai è troppo tardi per ritrovare la testa del cane, ma i sintomi ci sono tutti. È un guaio che si è andato avanti per tanto tempo. Due o tre inizioni subito l'avrebbero guadrito benissimo. Volete dire che è in pericolo, dottore? Purtroppo, ma il peggio è che prima soffrirà terribilmente. Dottore, lo amo tanto da morirne. Ditemi qualunque cosa io possa fare e lo farò. L'unica cosa che possiate fare, Jenny, è di farlo portare all'ospedale, dove potranno tenerlo legato e guadare a lui. Ma lui non vorrà andare all'ospedale e poi penserebbe che io sia stufa di occuparmi di lui, mentre Dio sa che non è vero. Non posso sopportare l'idea che debbano legare T-Cake come se fosse un cane arrabbiato. Purtroppo è così, Jenny. È molto difficile che se la cavi e c'è pericolo che morda qualcun altro, voi specialmente, e allora vi troverete nelle sue stesse condizioni. È un brutto affare. Ma non si può fare proprio nulla, dottore. Abbiamo del denaro alla banca di Orlando. Guardate se non potete fare qualcosa di speciale per salvarlo. Qualunque cosa costi, dottore, non mi importa di nulla, ma vi supplico. Farò quanto posso. Telefonerò a Palm Beach immediatamente perché mi mandino il siero che avrebbe dovuto essergli nettato tre settimane fa. Farò tutto quel che posso per salvarlo, Jenny, ma temo che sia troppo tardi. I malati nelle sue condizioni non possono ingoiare acqua, lo sapete, ed è una cosa terribile. Jenny indugiò fuori un poco cercando di convincersi che non era vero. Finché non vedeva l'impronta del male sulla sua faccia, poteva anche immaginare che nulla fosse accaduto. Ecco, pensava, quel cagnaccio con gli occhi pieni d'odio aveva finito con l'ucciderla. Meglio, molto meglio, se avesse lasciato andare la coda della mucca e fosse annegata là, sul posto. Almeno tutto sarebbe finito. Ma sentirsi uccidere attraverso T-Cake era troppo crudele. T-Cake, il figlio del sole calante che moriva per l'avera troppo amata, guardò fisso il cielo per lungo tempo. Chissà dove, lassù, nel seno dell'etere azzurro, egli sedeva immobile. Ma sapeva veramente quello che cadeva sulla terra. Doveva saperlo, poiché sapeva ogni cosa. Ed era ormai possibile che volesse fare una cosa simile a lei e a T-Cake. Inutile ribellarsi e lottare. Non poteva far altro che soffrire ed attendere. Ma, e se fosse stato soltanto uno scherzo per tormentarla? E comprendendo d'essere andata troppo oltre, egli glielo avesse fatto capire come un segno? Guardò fisso nel cielo se qualcosa si muoveva, le faceva cenno. Una stella nel giorno chiaro, forse, o un grido del sole, o magari anche un rombo di tuono. Le sue braccia si alzarono per un minuto disperatamente chiedendo. Non era tanto una supplica quanto una domanda. Ma il cielo rimase impassibile e calmo ed ella rientrò in casa. Dio forse non sarebbe stato tanto crudele. T-Cake stava sdraiato con gli occhi chiusi e Jenny sperò che si fosse addormentato, ma non dormiva. Una gran paura si era impadronita di lui. Cos'era mai questo male che gli faceva ardere il cervello e lo stringeva la gola condita di ferro? Di dove veniva e perché gli stava attorno? Sperava che fosse finito tutto prima che Jenny se ne accorgesse. Voleva provare di nuovo a bere, ma non voleva che lei vedesse se non ci riusciva. Ma non appena se ne fosse andata dalla cucina si sarebbe avvicinato al secchio e avrebbe bevuto subito prima che qualcuno potesse impedirglielo. Perché spaventare Jenny finché poteva evitarlo? La sentì vuotare la stufa e la vide andare fuori con la cenere. L'un balzo fu presso il secchio, ma questa volta gli bastò la vista dell'acqua. Quando ella rientrò era sul pavimento della cucina in preda a una sofferenza terribile. Jenny lo carezzò, cercò di calmarlo, lo fece tornare nel letto. Poi decise di andare a vedere se era arrivata quella medicina da Palm Beach. Chissà che non trovasse qualcuno che andasse a prenderlo in macchina. Ti senti meglio ora, T-Cake, bimbo mio? Un pochino. Bene, allora andrò a spazzare il cortile. Gli uomini hanno gettato pezze di canna masticata e gusci di noccioline dappertutto. Non voglio che quando il dottore torna trovi ancora tutto questo disordine. Non ci stare tanto, Jenny, non mi piace rimanere solo quando male. Ella corse fuori più in fretta che poteva. A mezza strada dalla città incontrò Sop de Botton e Dockery che le venivano incontro. Buondì, Jenny, come stati, Cake? Piuttosto male. Vado a punti in cerca di una medicina per lui. Abbiamo saputo dal dottore che era malato e siamo venuti a vedere. Già l'avevamo pensato quando non l'abbiamo visto venire a lavorare. State con lui finché torno. Ha bisogno di compagnia. Divorò la strada fino alla città e trovò il dottore Simmons. Sì, gli avevano risposto. Non c'era siero, ma avevano telegrafato a Miami di mandarlo. Non doveva preoccuparsi. Sarebbe arrivato la mattina dopo se non prima. Chissà a giungillarsi in un caso simile. No, era proprio inutile che prendesse una macchina e andasse a cercarlo. Era meglio che aspettasse a casa. Ecco tutto.